BELLA A TUTTI RACAZI E BELVENUTE IN QUESTO NOMISSIMO VIDEO DI ANDERRAFFI Oggi andiamo a chiamare il numero di satana che tutti chiamano su youtube ok 3 informazione gratuita la chiamata da lei eseguita non è abilitata l'hai chiamata non è abilitata però si può chiamare quindi il numero esiste benvenuto nel servizio clienti copvoce ti ricordiamo che la chiamata è gratuita dai telefoni copvoce e dai telefoni fissi di Telecom Italia puoi trovare informazioni ed assistenza anche sul sito www.copvoce.it se c'è cliente copvoce premi il tasto 1 altrimenti premi il tasto 2 no raga non ho capito che c'era quindi questo nome esiste no raga ok ragazzi mi installo quella perché appena ti chiamano registra perché dicono che alle 3 di notte ti chiama però si dice che non è abilitato che proprio esistere meglio scaricare quell'app poi l'unotto non so cos'è cioè secondo me è rato per le piovere non lo so vada non vengono i benefici solo a pensarci e ci vediamo al prossimo video ciao